Scoperiti una riunione senza il sindaco di Fano Massimo Seri? Sì, una riunione importante per la città, una riunione al quale la Commissione Garanze e Controllo era stata invitata, si è giustificato, ma io fino all'ultimo come presidente della Commissione Garanze e Controllo ho sperato che rinunciasse all'impegno improvviso che ha avuto e partecipasse alla Commissione. Era però presente il presidente della provincia Paolini, qual è invece la sua opinione? Ecco, ripeto, l'opportunità per il sindaco di Fano Seri era quella di confrontarsi con il presidente Paolini in quanto il presidente Paolini è fautore di una soluzione inelluttabile, secondo lui, che vede la fusione di Marche Multiservizi e di Aset per garantire il futuro di questa società. Mentre il sindaco Seri avrebbe dovuto presentarsi e confermare con forza quello che è il risultato dal Consiglio Comunale, cioè il Consiglio Comunale ha stabilito a maggioranza che Aset debba rimanere una società a capitale pubblico e in house. Qual è la vostra preoccupazione? La nostra preoccupazione è che, nonostante il Consiglio Comunale abbia dato una direttiva, il nostro sindaco dichiari nella stampa che ancora ci siano delle possibilità per valutare la fusione Marche Multiservizi con Aset, mentre noi avremmo voluto che in questa occasione fosse ribadito anche dal primo cittadino qual è la posizione del Consiglio Comunale che ha valore in questo frangente. Vuole lanciare un appello al sindaco? Chiedo al sindaco Seri di dichiarare ufficialmente che cosa vuol fare di Aset il futuro della nostra città.